Sto parlando della Tetralogia di Bartimaeus, questi quattro libri scritti tra il 2003 e il 2010 da Jonathan Stroud. Questi quattro libri che sono L'Amuletto di Samarkand del 2003, L'Occhio del Golem del 2004 e La Porta di Ptolomea del 2005, più un prequel che racconta delle vicissitudine del protagonista Bartimaeus a millenni prima, che è L'Anello di Salomone, che invece è stato pubblicato nel 2010. Piccolo inciso, questo Jonathan Stroud è lo scrittore anche di un'altra serie che si chiama Lockwood & Co., che probabilmente qualcuno conoscerà, quasi un mesetto fa, sembra più o meno fine gennaio, Netflix ha fatto uscire la serie tv basata su questa saga.